Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik. In questo periodo di silenzio istituzionale stiamo notando uno stallo nella fase della vaccinazione e soprattutto uno stallo della politica. La vaccinazione sta andando molto più lentamente del previsto e gli aiuti economici previsti dal governo del Messia Draghi non sono quelli che ci aspettavamo. In tutto questo noi ci sentiamo sempre più isolati dalla nostra comunità e ogni giorno cerchiamo di combattere una battaglia personale nella nostra quotidianità. Ci sono donne che vivono una situazione difficile, non rispettate dentro quattro mure di casa. Ci sono mamme sempre più in difficoltà e sempre più vicine a un esaurimento nervoso divise tra famiglia e lavoro. Ci sono uomini neodisoccupati che non vedono più la luce in fondo al tunnel. Ci sono ragazzi che stanno sempre più credendo che il vero amore sia quello dietro a uno schermo, che stanno perdendo l'educazione nella fase più importante della loro vita. Ci sono bambini vittime innocenti che non riusciranno più a capire quale sia la realtà. Ci sono nonne e nonni che non hanno più potuto abbracciare i loro nipoti. Ci sono universitari che hanno una crisi esistenziale, sempre più demotivati e sempre più alla ricerca di una loro identità. In tutto questo ci siamo noi e tutti noi ci rivediamo in queste storie, che non sono storie che racconto io, ma sono storie che raccontano psicologi che stanno affrontando questo problema in maniera molto seria, in quanto tutti noi stiamo vivendo un momento di depressione, chi più e chi meno, un momento di crisi esistenziale. Però bisogna cercare di essere sempre positivi e mai rifugiarsi nella negatività. Ed è per questo che mi ha toccato molto la lettera di due ragazzi, che è stata pubblicata dal mio giornale e che ha ricevuto molti commenti, è stato molto molto discussa ed era una lettera indirizzata al governo. Ecco, io non condivido tutto quello che dicono questi ragazzi e mi rivolgo a voi ragazzi e a tutti i miei coetani. Però condivido una cosa, il fatto che noi giovani non ci battiamo più per le nostre idee. Ma questo perché? Perché non esistono più le idee. Ormai i giovani che pensano diversamente dal sistema vengono zittiti. I giovani non vengono più aiutati dalle generazioni più grandi, sono sempre più lasciati in balia degli eventi e della storia. E questo è un grosso problema. E lo stiamo notando soprattutto a livello di politica, di società. Anche nella politica locale possiamo notare questa cosa. Ci sono molti giovani che abbiamo eletto. Molti giovani con idee vecchie, vecchi dentro. Giovani che non hanno saputo portare innovazione, portare le loro idee, perché vengono zittiti quotidianamente. E questo a me rattrista molto, però sono fiducioso, perché credo che la mia generazione, la generazione dei millennials, la generazione Z, chiamatela come volete, sia cresciuta, sia stata formata attraverso la scuola con dei principi. Il principio del multiculturalismo, il principio dell'europeismo e il principio della crescita, della ricerca, dell'innovazione tecnologica. Ed è da questo che dobbiamo ripartire. Non dobbiamo solo puntare il dito contro gli altri. Dobbiamo cercare di essere migliori di quelli che ci hanno preceduto, perché avremo da gestire una situazione molto importante e molto grave e dobbiamo essere pronti per questo. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik.